Un'aggressione rapidissima, una scena di violenza quasi da film. Di questo raccontano le testimonianze di chi era a bordo dell'autobus 246 dell'AMAT che sabato sera è stato teatro di un vero e proprio ride punitivo. Secondo la ricostruzione fornita alla polizia, un gruppo di circa 10 giovani avrebbe fermato l'autobus in via del Vespro, a pochi passi dal policlinico. In quattro sono saliti a bordo, aggredendo un giovane, accusandolo di aver commesso uno scippo. La banda avrebbe poi trascinato giù in strada il ragazzo, portandolo in un luogo meno illuminato e cominciando a picchiarlo selvaggiamente con calci e pugni davanti agli occhi dell'autista, del bus e degli altri passeggeri che nel frattempo erano scesi dal mezzo per dare l'allarme e cercare di bloccare il pestaggio. Ma all'arrivo delle volanti gli aggressori si sono dileguati in fretta, gli agenti non sono riusciti a rintracciare neanche la vittima, mentre il 118 ha dovuto soccorrere alcune donne che erano a bordo dell'autobus e rimaste scioccate dalla violenza alla quale hanno assistito. Le indagini proseguono ancora senza esito, nonostante gli agenti abbiano condotto ricerche in tutti gli ospedali della zona. Intanto l'episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza a bordo degli autobus, soprattutto nelle ore serali. La sicurezza non è solo negli autobus che non c'è, è in tutta Palermo ormai, perché al mondo d'oggi ormai non c'è più, dicevo poco fa la stessa cosa, che non si discutono più le cose fra persone. Ormai si arriva a un certo punto che si va subito alle vie di fatto, subito si va ad aggredire senza magari cercare spiegazioni per quale motivo è successa quella tale cosa. E ha un po' di paura, ecco. Abbastanza, ho moglie e figlie a casa, so quando esco di casa e per come vanno le cose non so se oggi ritornerò o ogni giorno quando vado al lavoro se ritornerò a casa. Quanti anni è che fa questa attività? Sempre su questa linea? No, no, io giro diverse linee. Io sono quasi 29 anni che faccio il suo lavoro.